Carlotta ASMR Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero stiate davvero molto molto bene Benvenuti in un nuovo video qui sul canale Lo sto registrando oggi che è lunedì 30 settembre E quale video migliore parlando di eco, prodotti eco, modi per rispettare l'ambiente eccetera Se non quello del mio anniversario Perché oggi sono due anni che ho smesso di fumare E quindi ci stanno anche questo video E ho fatto un video a riguardo a proposito, se vi interessa li trovate qui Questa era una parentesi Allora oggi andremo a parlare dei prodotti eco, bio e delle astuzie Che io metto in atto tutto ciò che faccio Per rispettare il pianeta in cui viviamo Ovviamente mi auguro che seguiate alcuni dei miei consigli O prendiate spunto Non ho la pretesa di insegnare niente Perché cerco di fare quello che posso Ma non faccio tutto il... Non faccio, come dire, tutto quello che si può fare Ovviamente nessuno di noi potrebbe Ma faccio il possibile E ci tengo molto Chi mi segue lo sa In questo video vi mostrerò quindi Qualcosa che riguarda Un'astuzia anche per risparmiare Un prodotto che mi è stato regalato da Silvia E l'ha acquistato sulla wishlist Grazie Silvia Ve lo farò vedere più tardi Ed alcuni prodottini che Sia per la persona che per la casa Che molto spesso vengono snobbati Nel senso viene snobbato l'acquisto Di prodotti eco, bio Di questo genere Cominciamo Ma subito prima Vi voglio far vedere Di qua La maglietta che indosso Che non dovreste vedere benissimo Dall'inquadratura Che è di Pampling E vi ricordo che lo sconto è al 20% Su tutto il sito Nel caso vi interessasse E che è uno sconto affiliazione Quindi fareste una piccola donazione al cancanale Oltre a risparmiare Detto questo Ci siamo Allora Cominciamo subito Vi mostro in primis Qualcosa che mi ha completamente cambiato La vita Nella quotidianità E' tantissimo Che ve l'ho mostrata su Instagram Ora l'ho testata veramente bene Sono diversi mesi Che l'ho acquistata E finalmente Ve la propongo Anche qui Su Youtube Sto parlando Della brocca Che Filtra l'acqua Sicuramente Vedrete molti riflessi Perché ho le luci Allora C'è ancora un po' d'acqua Perché l'ho usata poco fa E' una brocca E' una brocca semplicissima Ovviamente vi lascio tutti i link Dei prodotti O i nomi dei prodotti Nel caso non avessi link Giù Questa vi invito veramente ad acquistarla Anche se non fosse questa brocca Ma è veramente un passo in avanti Non troppo costoso da fare Allora appunto è una brocca Questa in particolare Che è della marca Laica Non è perfettamente pulita Ma ci sono molte Chiazze di acqua Perché l'ho appena fatta All'interno C'è il filtro A cosa serve questo filtro? In questo modello Il filtro si cambia una volta al mese E un filtro costa circa Vediamo Io ho pagato 12 filtri 40 euro Quindi per un anno 40 euro E nulla E la brocca Circa una trentina Questa brocca Elimina completamente L'acquisto da parte vostra Di bottiglie D'acqua Perché andrete ad inserire Qui dentro L'acqua del rubinetto Ovviamente Prima bisogna informarsi Presso il proprio comune Se l'acqua del rubinetto È L'acqua corrente È controllata Comunque E se è buona Da bere quotidianamente Si riempie Ed il filtro Elimina Ci sono diversi tipi di filtro Questo qui elimina Un po' di calcare I metalli pesanti La pulisce Tra virgolette In qualche modo Ed è fantastica Io non acquisto più Bottiglie d'acqua Da mesi Mesi E mesi E non solo È La prima cosa Che mi viene da dirvi È Che c'è un risparmio Immenso Per voi Ma Immaginate Quanta plastica In meno Si fa Si produce In una famiglia Di tre Quattro persone Il quantitativo Di bottiglie Di plastica È enorme Ovviamente Ci sono altri metodi Io vi consiglio Il mio Che Non troppo costoso Diciamo E poi sinceramente Andate ad ammortizzare Il costo Che all'inizio È Abbastanza importante Ma lo ammortizzate E lo recuperate Subito Quindi questa è la mia L'ho presa gialla Semplicemente Perché c'era un'offerta Su quella gialla Non che mi piacesse Particolarmente Vi volevo assolutamente Consigliare Questo metodo Questa astuzia È Un'inezia Ma se lo facessimo Tutti Pensateci No La seconda cosa Che vi mostro È sempre in ambito Cucina Ed è questa Eh Sì È una spugna Per i piatti Ancora un po' Umidiccio Che cosa ha di tanto speciale Questa non è bio Ed infatti Si consuma Un pochino più in fretta Delle altre Va cambiata un po' Prima Ma a me non interessa Cambia veramente molto Perché È un'altra astuzia Semplice Il costo Non è più elevato Ma Insomma C'è una bella differenza Fra materiali vegetali E materiali Come plastica Materiali sintetici Quindi vi consiglio anche Quindi vi consiglio anche questa cosa L'ultimo L'ultimo prodotto per la cucina Diciamo così Di cui vi parlo È questo È questo Ma non questo Nello specifico È il detersivo Per i piatti Perché ve lo consiglio Perché infatti Molto spesso Sento persone che dicono Io metto solo creme bio Mi lavo solo con shampoo bio Mi trucco con prodotti bio E poi I detersivi I detergenti Che utilizzano Non per sé Ma per la casa Per esempio Sono Schifezze pure Sì I detersivi Per i piatti Questo dall'altro Comprato da poco E per La lavatrice Sì Sono un pochino Più costosi Però ragazzi Siamo sinceri Spendere 2 euro in più Ogni 2-3 mesi Per un detersivo Non manda nessuno In bancarotta È un gesto Veramente Molto semplice Che se facessimo tutti Se questo gesto Lo facessimo tutti Le cose cambierebbero Con questo in particolare Mi trovo molto bene Fra l'altro È Ecocert È certificato Ah Per i prodotti Piccola parentesi Per chi non conoscesse Troppo questo mondo Accertatevi Che sia Certificato È molto importante La certificazione Bio Se cercate qualcosa di bio Quindi ecco Questi sono due esempi Per la casa Di Esempi di Cura della casa E non solo Perché anche l'acqua Molto semplici Da mettere in atto Ai quali spesso Non si pensa Passiamo adesso Alla persona Non vi rimostrerò I miei shampoo Le mie creme E le mie maschere Perché vi ho mostrato Quasi tutto Tranne Una cosa Tre cose che vi mostro No Sì Tre cose che vi mostrerò Dopo Vi ho mostrato tutto In questi video Per i capelli E per la skin care Vi mostro subito Il regalo Che mi ha fatto Silvia Un bacione Silvia Carissima Che tra l'altro Mi sostiene anche Su tipe Quindi E il regalo è questo Ho aspettato Fino ad ora Per sballarlo E me l'ha mandato Da un bel po' Ma come ho detto Mi avete fatto Talmente tanti regali Che Non posso fare Un video Solo per i regali Perché verrebbe lunghissimo E mi piace Li vedrete man mano Cosa ci sarà mai In questa bustina Colore Canapa Ci sono ben Cinque Spazzolini In bambù Più Questo è pensato Per due persone Ma anche per una va bene Due Porta spazzolini In legno Adesso vi mostro In bambù Scusate Adesso vi mostro tutto E vi faccio qualche suono C'è scritto Cento per cento Pio Degradabile Ecco qui Lo spazzolino Lo spazzolino Lo spazzolino In bambù Che non toccherò Perché poi me lo Metterò Tra i denti Questo è Come appare Grazie mille Silvia Veramente E questo Sono differenziati Infatti sulla confezione C'è una stellina Sulle altre Ci sono Una stella Un cerchietto Insomma Per riconoscere Di chi sia Lo spazzolino Molto intelligente E Lo spazzolino Poi Sarà Inserito Qui dentro E Si può trattenere Comodamente Sul lavandino Anche questa Mossa Si Gli spazzolini In bambù Costano un po' Di più Degli spazzolini In plastica Ma ogni quanto Lo utilizzate Lo spazzolino In teoria Si cambia Ogni tre mesi Ogni tre mesi Spendere Un paio di euro In più Non manda Nessuno In bancarotta Ragazzi Bene Grazie ancora Silvia Un bacione Ora invece Vi mostro Qualcosa Che non vi ho mostrato Per la cura Della persona Dei prodotti Dei Non sono cosmetici Dei prodotti Non tutti Il primo E' questo Cos'è? Il dentifricio Ragazzi E' inutile Mangiar bene Mettersi le cremine Se poi Ci laviamo i denti E quello che ci penetra Dentro La mucosa Della bocca Non è proprio top Questo non è Il top Dei dentifricio Bio Che ho provato E Non ricordo All'ecocert Alla certificazione E' buono Ma non è tra i migliori Comunque assolutamente Dentifricio Bio Vorrei fare Una Sicuramente Fare una premessa All'inizio Io non uso bio Perché va a moda Uso bio Non solo Per il benessere Del mio corpo Per la salute Ma per Questo pianeta Perché L'impatto ambientale Che lasciamo Utilizzando Questo genere Di prodotti E' decisamente Diverso Poi Il deodorante Migliore Che io abbia mai Provato In assoluto Bio E Questa è una parte Molto delicata Perché io Non mi sono trovata Molto bene Con i deodoranti Bio Ma ho insistito Finché ho trovato lui Non penso Di avervelo mostrato Perché l'ho acquistato Quest'estate È come un deodorante Normale Assolutamente Non dà Alcun problema È in gel Quindi è molto Appiccicoso Quando lo si mette Ma basta Farlo asciugare Basta Poi Un deodorante Normalissimo Un'altra cosa Alla quale Molto spesso Non si fa Attenzione È il bagno Schiuma Perché Non basta Ripeto Mangiare Eccetera Anche il bagno Schiuma Ci penetra Nella pelle Ragazzi Non parliamo Del deodorante Che va Nell'infonodi E Questo è quello Che uso io Da un bel po' Come vedete Arrivato fino a qui Ed è di questo Marchio È certificato Ovviamente Ed è Mandorla E miele Non mi fa impazzire La profumazione O meglio Ormai Mi ha un po' Stancato Perché era una confezione Formato famiglia Ma era in super Offerta Quando l'ho comprato E quindi Va bene Insomma Va benissimo È comunque piacevole Lascia un buon odore Sulla pelle Non Da assolutamente L'effetto Dei bagno Schiuma Che ve li mettete Andate in giro Con l'odore No Ma io penso Che sia assolutamente Normale Perché il fatto Che vi resti Quell'odore Assurdo Sulla pelle Comunque Non penso Sia proprio Il top Cioè quello Che c'è dentro Deve essere Rinforzato In qualche modo L'odore No Questo era Da un litro Anzi mi sta Durando tantissimo Devo dire Ok Ultima cosa Che vi mostro Ed è Un nuovo prodotto Per la skin care Che non era questo Che vi ho mostrato L'ultima volta È della Saponaria Ho acquistato Anche una crema Viso E un balsamo Saponaria Che non ho ancora Provato Sono pronti E questa è una Mousse detergente Ormai non posso Più evitare Di utilizzare Le mousse detergenti La mattina La mia amica Alessia SMR Sa perché Perché anche lei Stava usando le mousse L'ultima volta Che ho fatto Un video del genere Lascia veramente È una nuvoletta Ha l'impressione Di spalmarti Una nuvoletta Sul viso Ed è Struccante Un'altra astuzia Fondamentale Per noi donne È il panno In microfibra Struccante Che vi ho già mostrato O i dischetti Lavabili Perché Sappiamo noi donne Che Ci strucchiamo Noi donne Ma anche gli uomini Sinceramente Che si struccano Che di noi Le persone Che si struccano Facciamo così Sanno che Struccarsi Richiede Molto detergente Io per esempio Mi strucco Appunto Con Con La mousse E poi passo Il panno Di microfibra Che ho comprato Dall'estetista Cinica Super Lab Ma lo trovate Ovunque Il panno Di microfibra Sinceramente Avrei tantissimi Altri prodotti Da mostrarvi Ma Questi sono Quelli Che volevo Davvero Mostrarvi Soprattutto La brocca Le cose Durature La brocca Lo spazzolino Di bambù Gli spazzolini Di bambù La spugna Per lavare i piatti E non dimenticate Ragazzi Veramente Anche Di Per esempio Cose Giocche Facili Tipo Spegnere La giambatta Noi la chiamo così Non so se si chiama così Con più prese Sapete la lucetta rossa Ecco Consuma Ci vuole pochissimo A fare click Io ho preso L'abitudine Ho preso Questa buona abitudine Solo ultimamente Prima lo dimenticavo Sono piccoli accorgimenti Cerchiamo De non sprecare l'acqua Quando ci laviamo i denti Magari Chiudiamo il rubinetto Io questo L'ho sempre fatto Da quando sono piccola Mi hanno insegnato così Perché Lascia Scorrere L'acqua Non è proprio il massimo È uno spreco Un grandissimo spreco E Niente Spero che questo video Si vi abbia rilassati Ma Comunque Spero Di avervi dato voglia Di far qualcosa Di diverso Magari Di farvi cambiare Qualche abitudine Ditemi se voi avete Qualche abitudine Diversa Dalla mia Ovviamente Non accetterò I commenti del genere Questo è inutile Cioè perché No Non è inutile Ma non credo Ce ne saranno E Ditemi Se c'è qualcosa Che posso fare Che magari Non mi è venuto in mente Accetto i consigli E Ovviamente ripeto Che io Non sono Al 100% A parte Non sono Una Fissata Perché Un conto è Cercare di fare Il massimo Un conto è Essere Fissati E non sono Una Fissata Però C'è qualcosa Magari Che posso fare In più E che non faccio I consigli Sono bene Accetti Vi mando Un bacione E Ci vediamo Al prossimo video Non so Quando lo vedrete Questo A presto Ciao